Noi non stiamo subiendo la condizione pesante dei conti della Regione. Questo impone un grande cambiamento. Un grande cambiamento che vuol dire una Regione più leggera, con minori costi di organizzazione e struttura e il piano che abbiamo illustrato va in questa direzione. Ma una Regione che vuole continuare a intervenire sulla vita economica, sulla vita sociale e sul sviluppo della nostra Regione. Questa è la condizione che noi abbiamo assunto come impegno e obbligo. 100 milioni sono minori costi strutturali. E insisto su questo termine. Vuol dire che sono costi che si riducono per l'infinito. Non sono costi che si riducono un anno e poi l'anno dopo ce li ritroviamo. Costi strutturali vuol dire minor costo del personale, minori affitti, vuol dire eliminazione di qualche società, vuol dire ritornare in capo alla Regione l'esercizio di alcune funzioni eliminando dei soggetti. E poi c'è il resto. Il resto è la trattativa che il Presidente ha aperto con il Ministero e con il Governo. Noi non chiediamo soldi straordinari al Governo. Chiediamo unicamente che per due anni l'ammortamento dei mutui sia sospeso, si possa pagare solamente la quota di interessi per consentire di superare i due anni più difficili. Due anni dentro il quale noi vogliamo restituire una Regione capace di guardare al futuro. Grazie. Grazie.